Rieccoci al nostro appuntamento in dialogo con l'Europa, 5 minuti in diretta dal Parlamento di Bruxelles. L'Europa per molti è un oggetto misterioso, sicuramente è un progetto incompleto, ma soprattutto le istituzioni europee sono percepite come lontane e distanti. Come ridurre le distanze? Come dare un volto all'Europa? Ne parliamo con chi rappresenta l'Europa nei territori, i settimanali diocesani che tutte le settimane incontrano più di un milione di cittadini europei nei nostri territori in Italia. Sentiamo il direttore di Paolo, Lauro Paoletto, della Voce dei Berici di Vicenza. Sì, credo che la visita che stiamo facendo al Parlamento europeo ci confermi una cosa molto importante che però spesso dimentichiamo e cioè che gran parte delle questioni quotidiane che attraversano le nostre vite personali e delle nostre comunità in realtà dipendono da decisioni che vengono assunte a livello europeo e che tanti problemi locali con i quali noi ci confrontiamo e ci scontriamo quotidianamente come i cittadini trovano soluzioni non a livello locale ma a livello europeo. La responsabilità che abbiamo come giornalisti è quella di aiutare a far emergere questa dimensione locale ed europea e questo intreccio tenendo conto anche sicuramente dei tempi non facili e delle dinamiche che governano queste decisioni. Quindi occasioni di incontro come queste ci permettono di assumere anche una serie di strumenti per essere più consapevoli anche nella nostra professione. Passo in questo senso anche la parola a Luca Bortoli della Difesa del Popolo. Un saluto anche da parte mia e subito una provocazione. Quali sono i temi caldi sul tavolo dell'Europa? Credo che sia una domanda in realtà difficile a cui rispondere non solo per i semplici cittadini ma anche per chi ha ruoli amministrativi nei nostri paesi, tanto più per noi giornalisti. La verità è che noi seguiamo l'Europa solo quando ci sono gravi crisi, gravi problemi ma i temi quotidiani che come ha detto appena adesso Lauro e Paoletto impattano oramai in maniera molto significativa nelle nostre vite in realtà non riusciamo a seguirle. Qual è la ragione di tutto questo? Credo che sia una sfida importante che abbiamo di fronte a noi proprio come cittadini guardando a un 2019 che avrà l'elezione europea come un appuntamento centrale proprio penso nel calendario elettorale di tutti noi, 500 milioni di abitanti di questo continente. Lascio la parola ora a Marta che continua il suo ragionamento. L'Europa siamo noi è un motto, uno slogan che Zofoli ci ha detto più volte in questo incontro qui al Parlamento europeo ed effettivamente è vero e non ci pensiamo spesso quindi interroghiamoci su questa piccola frase. Ognuno di noi può dare un contributo all'Europa anche nel nostro territorio, nel nostro paesino, nella nostra città. Un'altra cosa che mi è piaciuta è Stati Uniti d'Europa trasformati in volti uniti d'Europa. Ripeto, ci possiamo interrogare e la grande sfida è farla funzionare questa Unione europea, questa cosa che ci sembra distante che però in realtà noi siamo i principali protagonisti. Cominciamo quindi ad interessarci. Prima di tutto il sito, internet, ci sono moltissime cose in streaming che non sappiamo, ci sono conferenze stampe, ci sono capi di Stato che parlano di temi caldi dell'Europa. Cominciamo ad informarci anche in questo senso. Do la parola ad Andrea Frison, della Voce dei Berici. Un saluto a tutti quanti. Credo che una delle cose più belle e immediatamente tangibili che l'Europa ci ha regalato sia la possibilità che le persone hanno di viaggiare, di attraversare i confini, di non venire ogni volta fermate, identificate, controllate. Credo che per conoscere l'Europa la cosa più importante sia viaggiare, conoscere e vedere da vicino questi volti di cui parlava poco fa Marta e anche di quali sono i volti che si ritrovano all'interno di questa casa comune degli europei che è il Parlamento europeo, che è una di quelle istituzioni alla quali forse è giusto iniziare anche un cammino per consegnarle una maggiore capacità decisionale, un maggior peso politico e anche di governo di questa importante istituzione. Torno a dare la parola. Noi abbiamo capito una sfida comune. L'Europa spesso appare, ed è per molti un oggetto misterioso, è il contraltare con cui abbiamo un rapporto sindacale, il gendarme dei conti pubblici. L'Europa ci obbliga, ci chiede, ci costringe, questo senso di oppressione. Bisogna che ripartiamo invece dai territori, far vedere l'altra faccia della medaglia. L'Europa delle persone, l'Europa dei volti, l'Europa occhiali a lenti progressive. Cioè tramite l'Europa noi riusciamo a vedere quello che succede nelle nostre case, nei nostri territori, nel nostro quotidiano, alziamo lo sguardo e gli stessi occhiali ci mettono in contatto con le sfide mondiali. Quindi abbiamo bisogno dell'Europa per leggere il nostro quotidiano e per insieme un'Europa più forte e unita, essere uniti e forti per incidere rispetto alle grandi sfide che sono tutte sfide globali e mondiali. Grazie per il vostro contributo, per quello che fate, ma soprattutto per quello che siete compagni, amici di viaggio di tanti cittadini europei. Grazie. Grazie.